Ciao! Hai mai pensato ai grandi personaggi, ai grandi uomini nella storia? Alle persone che hanno fatto veramente la differenza in questo mondo? Se tu ci pensi, non lo hanno fatto perché erano affascinanti, ma lo hanno fatto perché credevano veramente tanto in quello che stavano facendo. Credevano veramente tanto in ciò che stavano portando nel mondo, in questa loro missione che gli dava energia, gli dava energia per fare tutto ciò che era necessario fare per dare il loro contributo, per portare quella magia, quel cambiamento, quella trasformazione, quell'evoluzione. E se li conosci, e se conosci qualcuno di loro, se hai già sentito nominare questi personaggi, è perché in qualche modo qualcosa hanno fatto. Ebbene, pensa tu stesso, tu stessa, come puoi portare questo tipo di energia nella tua vita. Magari anche a te piacerebbe fare qualcosa di grande, di buono, di positivo, lasciare un giorno questo mondo come un luogo migliore, grazie proprio a quello che tu hai fatto, a quello che tu hai portato. Ebbene, questo può sembrare una cosa come un grande progetto, addirittura utopistico, ma se l'hanno fatto altre persone, magari se è qualcosa che ti fa sentire bene, pensare di poterlo fare e farlo, lo puoi fare sicuramente anche tu. Quindi, d'ora in poi, ascoltati e vedi dentro di te quali sono quelle cose che ti accendono. Che tu voglia portare qualcosa per l'evoluzione dell'essere umano, per aiutarlo a crescere, per aiutarlo a risvegliarsi, perché possa vivere una vita migliore o qualsiasi altra cosa bella e positiva che tu hai la possibilità di creare o di portare, sappi che se tu credi veramente a quello che stai facendo, sicuramente questo ti darà tanta energia e avrai la possibilità di realizzarlo. Ovviamente dipende da te. E se senti di avere delle resistenze, se pensi di non essere in grado, se pensi che sia troppo per te, vai a lavorarci con la Divine Connection. E se lo farai costantemente, tra un po' ne riparleremo. E probabilmente mi rivolgerò a te come una delle persone che ha portato un grande contributo in questo mondo. Ciao e buon lavoro. A presto. A presto. A presto. A presto.